Grazie a tutti dentro il fiat santificante del divino volere la volta scorsa ci siamo introdotti dentro la terza parte di questo ciclo di catechesi quello che diciamo è un po' il fine di tutto quello che abbiamo visto finora quindi qui non si tratta di fare accademia oppure come dire disquisizioni spirituali elevate o andare alla ricerca di qualche novità spirituale ecco cosa di cui gli antichi maestri di spirito avrebbero subito inorridito quando sentivano parlare di qualche cosa di nuovo insomma qui si tratta di aprire il cuore e la mente alla santità delle santità sentiremo poi in qualcuna delle puntate sicuramente uscirà fuori questo scritto quindi al dono dei doni, al portento dei portenti quindi davvero ad una forma divina di vita che consenta diciamo così a Dio di ripristinare nel massimo grado possibile certamente proprio al 100, 100, 100, 100% insomma uguale a prima non è proprio possibile a dire però realmente si tratterà se apriremo il cuore a questa realtà di un novello edeno lo sentiremo anche oggi insomma a quanto è bello e quanto è importante quindi tutto il discorso che abbiamo fatto è chiaro che è finalizzato alla vita non ha senso conoscere gli scritti se non sono finalizzati alla vita e del resto però conoscere gli scritti è indispensabile a poterli vivere perché vedremo e forse questa è la prima cosa di cui sarebbe bene parlarne oggi che la prima cosa che il nostro signore raccomanda quindi ci siamo arrivati adesso a voler fare la pratica ecco la prima cosa fondamentale per fare la pratica è leggere quindi gli scritti sono tanti ci sono 36 volumi di libri di libro di cielo personalmente non voglio fare certamente pubblicità non l'ho mai fatta insomma non voglio fare uno spot né mandare un trailer io personalmente ormai da qualche mese che quotidianamente avendo poi ricevuto insomma riscontri e richieste la mia meditazione è sugli scritti di Luisa Piccarita e la rendo pubblica semplicemente facendo l'altavoce prima la facevo per iscritto ecco poi mi è stato per una serie di ragioni contingenti detto proprio francamente legati a un tempo di riposo estivo quindi mi riusciva più semplice registrare dato il grande successo che è vero questa registrazione tutti mi dicevano no continuo a registrare non scrivere no continuo a registrare non scrivere vabbè continuiamo a registrare non scriviamo questo può essere un piccolo aiuto ma non è necessario insomma uno lo può fare anche per conto proprio perché questi scritti non sono come un romanzo capite ecco come ecco se qualcuno ha l'abitudine di leggere Topolino che è abbastanza leggero per rilassarsi un po' insomma ecco Topolino si legge come un giornaletto no ecco questi scritti non sono un giornaletto quindi hanno una profondità molto grande per cui richiedono proprio a mio avviso l'habitat della meditazione adesso anche in queste catechesi ogni tanto ne leggiamo qualcuno no però per me leggere uno scritto e non stare poi insomma a tirarci fuori tutto quello che sta dentro è una sofferenza perché sono di una profondità estrema quindi il mare è immenso perché guardate io sinceramente personalmente non c'è una volta che ne leggo uno e che non ne trago enorme giovamento per la mia vita interiore per la mia vita per la comprensione delle cose che mi accadono che vivo insomma io sono un povero peccatore non sono nessuno però come ho raccontato nelle mie esperienze insomma di vita se c'è una cosa che ha caratterizzato il mio essere il mio vivere anche il motivo per cui sono diventato prete lo saprete insomma adesso non voglio parlare di queste cose quindi io c'avevo una vita già programmata fatta pronta c'avevo già la laurea c'avevo già un affinanzamento che sarebbe culminato in breve tempo a nozze d'accordo quindi quando io come dice San Paolo conobbi colui che mi ha chiamato e mi fece non mi ha fatto cadere da cavallo letteralmente però è stata un'esperienza forte diciamo così una chiamata travolgente una chiamata assoluta no? e quindi da allora per me questo è stato d'accordo io non pensavo non sapevo niente non conoscevo bene la chiesa non sapevo che differenza che fosse da essere frate da essere buono da essere prete da essere missionario io volevo lui cioè volevo conoscere meglio il signore d'accordo ero rimasto attratto afferrato potremmo dire se mi passate questo termine innamorato in un certo senso era così perché io ero innamorato di avianzata mia a un certo punto andare innamorato più di lei era innamorato di qualcun altro quindi io non lo so come questo possa accadere se sono strano o cose di questo genere no? vi dico questo perché questo ha innescato chiaramente un processo di ricerca profonda nella mia vita ci ho passato gli anni interi le ore intere l'estate intere a leggere 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 vite dei santi scritte dei santi vite dei santi scritte dei santi non ho detto tutti i colori e diciamo che era arrivato a un punto così come dei prediche che ho sentito da tutti i colori insomma era arrivato a un punto che avendo veramente molto approfondito diciamo i classici della spiritualità e anche altre cose insomma belle e attendibili stavo semplicemente continuando a rileggere alcune cose più belle tra tutto il patrimonio insomma che mi era accumulato in oltre 20 anni insomma di cammino fatto come potevo appresso al Signore per cui ripeto lo ridico un'altra volta perché quando mi capitarono queste cose la prima impressione ma che sarà cioè poi anche vi confesso pure le foto di Luisa Piccarreta vedete questa tonnina piccola piccola ma veramente io proprio ne ho andato a confessare perché adesso come Gesù dice Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla ciò che nel mondo è piccolo è ignobile e disprezzato no? io mi devo confessare d'accordo per cioè non immaginavo d'accordo e questo per dire che invece adesso non c'è una una giornata una volta che apro un testo per la meditazione o una sera in cui leggo qualcuno degli scritti cioè che non solo che non rimango cioè a volte rimango come dire sterrefatto ho delle esperienze interiore di soprannaturale stupore dico ma mamma mia cioè in continuazione per questo che cioè come dire veramente sto trasmettendo quel poco che ho ricevuto e ripeto l'ho detto l'ho straripeto l'ho detto l'ho ripeto io non sono il grande esperto è una divina volontà io sono come dire un novello discepolo d'accordo quindi anche per questo tenete sempre per ci sono persone molto molto più molto più in alto e molto più autorevoli di me che parlano di questi temi quindi io dico ascoltatevi tranquillamente insomma quindi andate insomma però come dice anche lo stesso San Paolo e il profeta Geremia anche cioè nel cuore c'è un fuoco ardente che deve essere in qualche modo anche condiviso deve essere anzitutto vissuto ma deve essere anche in parte condiviso ed è quello che stiamo che sto cercando di fare ora quindi tutto è finalizzato alla vita d'accordo cioè l'incontro di una volontà è un incontro di vita d'accordo e funziona diciamo così se perché non leggerò l'ho scritto adesso non ho preparato uno per oggi ma mi stanno venendo in mente delle cose alternative quindi devo un attimo seguire quello che sento nel cuore allora Gesù in alcuni scritti spiega questa cosa Luisa allora cominciamo a entrare dentro il figlio santificante la prima cosa è la conoscenza cioè come fa la divina volontà a entrare nella nostra vita trova un modo per farti sentire qualcosa perché per forza c'è stata una situazione di ignoranza assoluta tu non potrai mai no? quindi può essere che ti capita uno scritto può essere che ti imbatti in loro della passione può darsi che senti una catechesi di Frappio di padre Pablo di Don Leonardo adesso non vorrei mancare di rispetto a qualche altro rappresentante del mondo della divina volontà insomma io non ne conosco molti no? ecco e quindi che succede? ecco questa è la prima ecco allora questa è la prima è come direbbero un tempo il kerigma ecco oggi va tanto di moda questo termino no? la predicazione quando uno quando uno entra in contatto con il Vangelo no? il kerigma il cosiddetto kerigma ci sono alcuni movimenti ecclesiali che ne fanno una bandiera no? il kerigma che cos'è? un annuncio essenziale cioè quello che San Pietro fece quando uscì dal giorno di Pentecoste dice ragazzi sentite un po' vi ricordate che era venuto un certo uomo Gesù Cristo e che voi avete ucciso appendendolo alla croce guardate che Dio era risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni d'accordo e ora ordina a tutti gli uomini di ravvedersi e di credere in lui vi ricordate cosa dice il secondo capitolo degli Atti degli Apostoli dopo la Pentecoste questi rispondono e adesso che dobbiamo fare? e San Pietro risponde pentitevi e fatevi battezzare dopo riceverete lo Spirito Santo cioè il kerigma non è una catechesi lunga tre ore oppure un corso di catechismo per adulti dove io pio il catechismo è una chiesa cattolica e comincio da Io credo in Dio Padre Onipotente e finisco con l'ultima forma della preghiera cristiana e ti spiego tutta la bottiglia cattolica no? il kerigma è un flash capite? è un primo impatto a volte è un pugno in faccia insomma quindi è un'esperienza dirompente cioè successa questa cosa che poi fa? cioè è una provocazione a prendere una posizione d'accordo? quello che sta dicendo guarda che l'uomo di quel paregname Galileo Dio l'aveva suscitato dai morti non l'abbiamo visto c'è credi o non c'è credi? punto interrogativo ecco così è il primo il primo contatto con la divina volontà io ho vissuto così perché dico cioè le prime cose dico oh che succede qua? c'è allarme capito? quindi c'è percezione di qualcosa di particolare di grosso d'accordo? e lì già c'è una come c'è c'è una prima che capite? c'è una prima biporcazione c'è un giudizio diciamo così che avviene proprio dal latino justicere quindi c'è un c'è un taglio c'è una separazione c'è chi fa le spallucce dice ma sì ma mo chi sarà questa tappa lunga oppure ma sta cosa strana sta divina volontà troppo difficile qua è il fiat supremo l'atto unico e i giri tutte queste cose qua non ci capisco niente lasciamo perdere possibile oppure c'è chi dice fermi tutti fermi tutti approfondiamo ecco questo è quello questo è il primo contatto con la divina volontà ed è in questo senso che Gesù dice che la prima forma di avvento del regno della divina volontà è un'anima attraverso la conoscenza cioè ha avuto il tuo kerigma della divina volontà speriamo che Luisa Piccarreta sia buona non mi si rivolta nella tomba che non stia dicendo farloccate ecco allora tu dici bene approfondiamo hai sentito il kerigma che cosa dobbiamo fare intanto pentite e fatevi battezzare poi venite a ascoltare tutte le pratiche che farò era sottointeso insomma dopo io l'ho conosciuta Gesù te lo spiego io chi è d'accordo lo vedremo sto paradossalmente dicendo le cose che che sentiremo poi nello scritto di oggi è avuto un flash adesso che mi sono ricordato insomma di di alcune cose no quindi si parte con la conoscenza la conoscenza la conoscenza quindi devi allora devi dedicare del tempo è una scelta capito noi abbiamo una giornata che è di 24 ore voi sapete che qui si parla di gente che intende percorrere un cammino di santificazione come abbiamo detto tante volte la santificazione è la volontà di Dio per antonomasia d'accordo ma non è indispensabile come dire camminare verso la santificazione è indispensabile osservare i dieci comandamenti perché chi non osserve i dieci comandamenti non raggiunge l'eterna salvezza d'accordo infatti Gesù ogni volta che parla di scelte impegnative dice se qualcuno vuol venire dietro a me oppure chi non odia il padre la madre non può essere mio discepolo d'accordo ecco quindi è sempre una proposta o al giovane ricco se vuoi essere perfetto vendi tutto quello che è dalle poveri quindi diciamo che il cammino della divina volontà o si inserisce per questo che dovrò fare adesso una una puntata sicuramente per mostrare e dimostrare come a mio avviso la porta d'ingresso migliore che esiste al fiat santificante è la consacrazione monfortana totus tuus d'accordo perché per fare la consacrazione totus tuus quando uno non la fa capite così alla garibaldina o tanto per fare un atto devoto si richiedono alcuni requisiti che sono propedeutici al regno della divina volontà per esempio perché sto dicendo questo se io parlo di conoscenze ripeto dentro un piano di vita di una persona che vuole tendere alla santità penso che le sappiate queste cose ho fatto un sacco di catechesi anche in passato una persona che vuole tendere alla santità cosa deve fare è certamente una persona che deve tendere alla santità non può limitarsi ad andare a messa la domenica e confessarsi ogni quando si ricorda non è possibile una cosa del genere quindi se vuoi diventare santo ecco ci sono già dalla filotea di San Francesco di Salli in poi c'è tutto un filone grandissimo adatto anche ai raici devi usare i cosiddetti mezzi di perfezione cioè sono mezzi di perfezione sono mezzi non fini e di perfezione cioè che servono a farti raggiungere la perfezione perché la santità non è altro che la perfezione Gesù ha detto siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste che vive nella divina volontà raggiunge un elevatissimo grado di perfezione superiore alla media questo sia ben chiaro questo qui ecco e quali sono questi mezzi di perfezione allora qui abbiamo i grandi maestri di spirito Sant'Alfonso Maria del Iguori San Pio da Pietrelcina su tutti il santo curato d'Ars che ti dicevano allora la prima cosa che te la mette in testa se vuoi diventare santo insieme al contatto quotidiano con la Santa Messa se puoi perché chi può non può prescindere da questa cosa perché la prima cosa da fare è usare i sacramenti la prima quindi la Messa quotidiana la comunione d'accordo col proprio spirituale anche quotidiana d'accordo la confessione ogni otto giorni sono prerequisiti d'accordo chi per ragioni oggettive non può andare a Messa tutti i giorni non è tagliato fuori però devono essere ragioni oggettive e non superabili con un pochino di impegno anche di questo bisogna parlare col padre spirituale per esempio lo stesso padre spirituale è necessario in un cammino di santificazione non lo è se io voglio fare una vita da fedele e comune basta che ogni tanto mi confesso non c'è bisogno di una persona autorevole di cui mi fidi e cui gli riconosco l'attitudine di guidare la mia anima che mi prenda per mano e mi insegni mi avvi mi introduca tante cose no? ecco premesso la presenza del padre spirituale e l'uso dei sacramenti la prima cosa guardate tutti canti sapete quanto io ami la madonna cioè prima del rosario ancora però che viene subito a rota c'è la meditazione santo Alfonso se prendete i suoi scritti dice non c'è santo che non si è fatto senza la meditazione padre Epilio ai suoi figli spirituali imponeva un'ora di meditazione al giorno sapete che lo standard oggi diciamo così minimo richiesto è di dedicare mezz'ora alla meditazione almeno ecco ma un'ora sarebbe meglio per chi potesse tutti i giorni ecco perché diventa capito allora se io voglio entrare nella divina volontà e ho 36 volumi da conoscere per un totale di quanti paragrafetti ci saranno io non ho mai contato ma non lo so insomma quanto ci vorrà a meditare 36 volumi forse 36 anni speriamo se no ma una quindicina d'anni a meditarli tutti ci ci vuole a meditarli a leggerli forse no ma a meditarli si allora è chiaro che una prima scelta non dico obbligata qui non ci sono obblighi d'accordo qui siamo nel mondo della più assoluta libertà dell'esercizio di ciò che attiene come dire alla nostra disponibilità cioè il regno della divina volontà potrei anche dire è proprio il regno della libertà Dio non ti non ti estorce nulla se fai qualche cosa in questo mondo tanto meglio per te se non la fai tanto peggio per te io questo lo ripeto in continuazione fedeli d'accordo questo è il regno della libertà d'accordo d'accordo ovviamente da intendere bene come dice San Paolo purché la libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne non è questo il senso questa è la caricatura della libertà no? ma nel senso che ogni scelta che tu fai è una scelta tua cioè è una scelta che tu devi fare perché hai capito e perché hai ponderato e perché ci vuoi investire perché la riconosci come buona per te tu capito? tu per te non perché devi fare bella figura davanti al Giavo altri non perché Don Leonardo adesso farà di una volontà siccome lo faccio pure io no d'accordo o niente d'accordo niente di tutto questo qui è una cosa del cuore tua personale allora è evidente che se tu vuoi fare questo percorso e se vuoi diventare santo non puoi diventare santo se non fai la meditazione quotidiana su che cosa farai la meditazione quotidiana? la domanda è retorica no? perché non c'è modo più 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 fecondo più fruttuoso per far scendere dentro il cuore tutte queste conoscenze verità che meditarle non limitarsi a leggere d'accordo? perché la lettura sì è importante per cui io suggerisco personalmente adesso non voglio non voglio fare i replicanti di quello che faccio io io ogni giorno la mattina medito e la sera quando passo del tempo davanti al Santissimo Sacramento leggo non troppo d'accordo non troppo e cerco sempre di fare una lettura sul doppio binario perché vi ho detto la volta scorsa che ci sono i volumi 1-10 che sono propedeutici 11-36 che sono esplicativi d'accordo? allora se uno passa direttamente al volume undicesimo sbaglia perché non puoi bypassare tutto quello che è il cammino di preparazione che poi è in parte già la divina volontà cioè che è ciò che la grazia e lo spirito santo ha sempre fatto per avviare i fedeli e le anime desiderose di perfezione verso questa meta però al tempo stesso se capite se uno cominciasse cioè io che ho conosciuto questa cosa non dico che c'ho fretta però un pochino sì perché io ho 46 anni che ho 80 anni per vivere in questo quindi ho trovato questa sintesi quindi andiamo un po' di lettura dal primo e un po' di lettura dall'undicesimo in poi a mio avviso potrebbe essere come dire una buona dritta ecco quindi questo per quanto riguarda le conoscenze e chi fa questo dicono gli iscritti già è mezzo entrato nel regno della divina volontà perché il nostro signore sta alla guardia sta alla guardia scusa sta alla il cantico dei cantici dice che spia attraverso le inferiate per vedere quello che facciamo le inferiate è appunto il muro della nostra volontà dice gli è arrivato l'input che fa questo comincia a leggere comincia a meditare allora ti interessa e fatto questo è già tantissimo non basta evidentemente perché la divina volontà non è pia lettura ma è già tantissimo perché lo sentiremo oggi se tu ti leggi questa roba costantemente regolarmente e hai voglia di diventare santo è impossibile che lo spirito santo non ti faccia trovare lì dentro tanta di quella luce tanta di quelle risorse di vita che tu dici basta d'accordo abbiamo fatto la quadra cerchiamo di viverlo e di capire sempre meglio come si mette in pratica ok a questo riguardo volevo leggere il primo scritto di oggi cioè il primo scritto di oggi lo scritto di oggi il primo la pazienza ci porta sempre in cielo il primo sulla divina volontà nel fiat santificante lo scritto di oggi è tratto dal volume 16 24 maggio del 1924 allora voi sapete che i titoli degli scritti di Luisa sono i sottotitoli sono arbitrari quindi io leggerò direttamente lo scritto senza darvi il titolo ripeto volume 16 24 maggio del 1924 mi sentivo amareggiata al sommo per l'applicazione del mio dolce Gesù e col triste dubbio che tutto ciò che Gesù mi ha detto è operato nell'anima mia non sia stato altro che una mia illusione un giochetto del nemico infernale parentesi vecchio trucco che il demonio fa con tutte le anime che vivono esperienze di questo genere parentesi e dicevo tra me se mi venisse dato e tutti gli scritti stessero nelle mie mani di mio potere o come volentieri li brucerei tutti capito ma ahimè non sono più in potere mio sono in mani altrui e se ciò volessi non mi viene dato a Gesù salvo almeno la povera anima mia non mi lasci perire e già che tutto è finito le relazioni tra me e te non permettere che io abbia la più grande delle sventure e di non fare minimamente la tua santissima torabilità volontà quindi il contesto di questa rivelazione di Gesù è un contesto drammatico Luisa si sente come non poche volte le accadeva e tante volte il demonio l'ha tentato in questo modo si vede già nel primo volume si pensava di essersi inventata tutto quanto d'accordo? mia illusione un giochetto del nemico infernale come si è inventata sta stupidaggine come se uno fosse capace di inventarsi robe del genere però purtroppo vi rimando al primo volume le meditazioni che ho fatto proprio nei giorni scorsi è proprio dell'astuzia del nemico sotto permissione divina essere capace di purtroppo rendere assolutamente verosimili stupidaggini del genere e l'unica via d'uscita per l'anima è appunto il direttore spirituale che come si capisce provvidenzialmente gli aveva tolto dalle mani gli iscritti onde evitare che succedesse qualche pazzia e Gesù risponde ora mentre ciò pensavo il mio adorabile Gesù si è mosso nel mio interno anche questo si è mosso nel mio interno e lo si capisce da uno scritto del primo volume sarà oggetto di meditazione nei prossimi giorni quando ci arriviamo perché lui si ha spiega le quattro modalità mistiche con cui Gesù le parlava questo muoversi nel suo interno vi dico subito che è conseguenza diretta del matrimonio mistico celebrato da Gesù con Luisa come descritto nel primo volume quindi matrimonio mistico celebrato con tanto di anello e con tanto di ratifica presso la Santissima Tenità in Paradiso fenomeno questo qui già noto alla teologia mistica cattolica allora alla sua amabile presenza le tenebre sono fuggite vedete appena arriva Gesù scappa il demonio subito d'accordo e questo va anche comprendere questo vale anche per noi che quando siamo sotto tentazione ricordiamo sempre ci dedicherò una puntata a parte e dimando la meditazione che ho fatto questa mattina tutto quello che ci accade se uno vuole entrare bene in questo legno tienilo per certo che è divina volontà perché se il demonio ti sta tormentando se viene Gesù scappa immediatamente e Gesù in qualunque momento gli può dire vattene all'inferno e se glielo dice il demonio ci va capite cioè il demonio non è il padre eterno ecco è un cane in catena quindi se il cielo gli permette di tormentarci anche in maniera ordinaria ademo sta calmi perché quella è volontà di Dio perché quel tormento che ci darà sarà bene per noi chiaro? cominciamo a famiglia cioè questa è dottrina di divina volontà lo stato puro è d'accordo? è già prima del volume undicesimo si trova nel primo allora le tenebre sono fuggite i dubbi sono scomparsi ed è tornata la luce e la pace e il mio dolce Gesù mi ha detto figlia della mia volontà perché dubiti del mio operato in te numero uno ciò che sempre Gesù dice alle sue anime sempre e poi dubitare della mia volontà e di ciò che ti ho detto sul mio volere supremo è la cosa più assurda che può farsi gli sta dicendo senti se vuoi pensare che quando mi hai visto stavi che te li fatta un goccetto non è vero ma posso pure capire ma che dubiti sulla dottrina della mia volontà no e lo spiega perché la dottrina della mia volontà è più che acqua cristallina presa dalla limpida fonte della mia divinità è più che sole sfolgorante che illumina e riscalda è specchio terzissimo che chiunque avrà il gran bene di potersi rimirare in questa dottrina celeste e divina ecco quello che vi dicevo prima raccontando la mia esperienza resterà scosso e sentirà in sé tutta la buona volontà di purificarsi dalle sue macchie per poter bere a larghi sorsi di questa dottrina celeste e così restare abbellito dai freggi divini io di tutto questo sono testimone oculare a me questo che è stato appena detto è successo d'accordo e succede tutti i giorni tu devi sapere la causa il perché la sapienza e ogni potenza divina vuole pronunziare il fiat nella creazione ora Gesù lo stiamo ripetendo e ritorna un attimo indietro nel fiat creante per spiegare bene che cos'è il fiat e poi passa al fiat santificante Dio poteva creare le cose senza dire parola non pensiamo che Dio debba parlare a Dio basta volere perché una cosa sia ma il fiat è stato pronunciato ci dice il libro della Genesi Dio disse fiat lux et fuit lux ok poteva creare tutte le cose senza dire parola ma siccome volle che la sua volontà aleggiasse su tutte le cose e ricevessero tutte le cose la virtù i beni che contiene pronunziò il fiat lo disse e mentre lo pronunziava attenzione comunicava i prodigi del suo volere affinché tutte le cose avessero per vita per regime per esempio per maestro la mia volontà attenzione a questo punto quando vedremo come si gira per esempio nel fiat creante tenete subito questo pensiero guardate uno stelo di erba in quello stelo di erba c'è il fiat non è una metafora c'è la divina volontà in quello stelo di erba capito mentre lo pronunziava comunicava i prodigi del suo volere ripeto affinché tutte le cose avessero per vita per regime per esempio e per maestro la mia volontà giacché figlia mia la prima parola del tuo dio che risuonò sulla volta dei cieli fu il fiat ne disse altro ciò significava che il tutto stava nel fiat vi dico questo scritto andrebbe meditato per almeno due ore d'accordo ecco perché vi stavo dicendo prima comunque proseguiamo col fiat creavo tutto costituivo tutto ordinavo tutto racchiudevo tutto legavo tutti i suoi beni a pro di tutti quelli che non sarebbero usciti dal suo eterno fiat e quando dopo aver creato tutto vogli creare l'uomo non feci altro che ripetere il fiat come impastandolo con la mia stessa volontà e poi soggiunsi facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza in virtù del nostro volere manterrà in sé integra la nostra somiglianza attenzione e conserverà bella e intatta la nostra immagine sta facendo riferimento l'abbiamo visto allo stato di Adamo unito alla divina volontà prima della colpa d'origine quelli erano due piccoli dei somiglianti a dio veramente tanto noi siamo diventati dei mostri che somigliamo al diavolo purtroppo ma prima non era così vedi dunque che la sapienza increata come se non sapesse dire altro che fiat volle pronunziarlo volle pronunziarlo attenzione la pronuncia lo ha detto tanto era necessaria a tutti questa lezione così sublime attenzione adesso al passaggio e questo fiat aleggia tuttora attenzione su tutto il creato tutto il creato cioè l'area che tu stai respirando adesso mentre ascolti questa categoria se tu respiri anche se non lo sai con le molecole di cui è composta d'accordo con l'idrogeno con l'ossigeno con l'azot adesso non mi ricordo tutte le altre composizioni dell'area della nostra atmosfera lì c'è il fiat noi ci siamo completamente dentro immersi fino al collo d'accordo si tratterà di imparare ad andarlo familiarizziamoci con questo termine a prendere e a viverlo dovunque si trovi queste sono alcune cose peculiari caratteristiche del vivere nel divino volere che haremo modo di riprendere questo fiat aleggia tuttora su tutto il creato come conservatore delle stesse mie opere e come in atto di scendere sulla terra per investire l'uomo per racchiuderlo un'altra volta in esso ecco il passaggio al fiat santificante affinché da dove usci cioè dal mio volere nel mio stesso volere ritorni perché è mia volontà che tutte le cose da me create ritornino sulla stessa via dove uscirono affinché mi ritornino belle decorose e portate come trionfo dalla mia stessa volontà qui Gesù spiega rapidamente anche il senso no? tutta la creazione è uscita dal fiat il peccato ha rotto il fiat ci ha voluto la redenzione per aggiustare questa rottura ma ci vuole il termine della redenzione che è appunto il fiat santificante per riportare tutto il creato nell'ordine primiero della creazione perché Dio vuole essere glorificato nel senso che ciò che fece per noi sia da noi vissuto così come lui lo fece uscire è possibile questo qui operata la redenzione e passato il tempo che era necessario nei decreti divini che passasse è possibile e adesso vediamo l'ultima parte che è la parte più bella dello scritto di oggi onde di tutto ciò che ti ho detto sulla mia volontà questo è stato il mio scopo che la mia volontà sia conosciuta e che venga a regnare sulla terra quello che ho detto all'inizio di questa meditazione qui non stiamo facendo accademia la prima cosa è la conoscenza ma la conoscenza è finalizzata al regno cioè io lo desidero conoscere perché desidero che la divina volontà regni in me per entrare nel regno del fiat supremo come si dice tecnicamente ok questa è la volontà attenzione adesso qui arriva il bello e ciò che ho detto sarà quindi il regno della divina volontà è volontà di Gesù capite è volontà di Dio e qui dice ciò che ho detto sarà voi sapete una cosa la volontà di Dio faccio una parentesi secondo la nostra percezione e come noi inevitabilmente la percepiamo io dico sempre per far capire ha almeno due piani due livelli che tra l'altro la Bibbia confonde no? perché semplicisticamente li dà chiudere tutti quanti in uno solo dando luogo a possibili poi interpretazioni fuorvianti cioè c'è una volontà che io personalmente questo è un termine mio chiamo intenzionale di Dio cioè è il modo con cui lui vuole positivamente qualcosa per esempio vuole creare un'anima d'accordo? oppure ha voluto compiere l'opera della creazione sua manifestazione di suo volere buono perfetto e finalizzato al bene poi c'è un secondo livello che è la volontà permissiva possiamo dire che Dio voleva la ribellione di Lucifero con atto intenzionale cioè ha detto a Lucifero ribellati a me pecca voleva questo no d'accordo no però però ha permesso a Lucifero di fare questo sì sì e qui sono i grandi misteri dei divini voleri d'accordo attenzione qui cadono tutti quanti poteva impedirlo sì allora qui la gente dice ah non l'ha impedito e quindi mette qui stupidamente come cantava una blasfema canzone di un noto cantautore mette Dio sul banco degli imputati dice ah Dio poteva impedire il peccato non l'ha impedito e allora eh no eh no perché Dio non l'ha impedito perché nella sua onniscienza onnisapienza onnitutto che noi non possiamo penetrare e comprendere la permissione di quell'atto ha la sua ragione di essere punto e basta ok in ogni caso tante questa distinzione la chiesa cattolica ovviamente la dottrina della chiesa insegna che se Dio vuole una cosa non c'è niente che si può opporre al suo volere niente ma manco tutto l'inferno messo insieme ma manco tutti i peccatori messi insieme cioè nel senso che tutto il marasma che noi vediamo è sempre tutto sotto controllo ma lo è veramente ecco perché questo è un fondamento veramente sotto controllo guardate che pensare diversamente vuol dire bestemmiare vuol dire diventare manichei d'accordo i manichei dicevano che c'è un Dio buono e c'è un Dio cattivo e questi si fanno la guerra sullo stesso livello non è affatto così è vero che succedono tanti disastri è vero che purtroppo un sacco di gente va all'inferno tutto quello che volete ma è sempre vero che è tutto sotto controllo per cui se Dio una cosa non vuole assolutamente che accada quella cosa non accadrà ma ripeto anche se si equalizza tutto l'inferno messo insieme capito Gesù è morto in croce di una morte così orrenda perché perché Dio l'ha voluto è chiaro che perché questo si realizzasse cosa ha fatto l'altissimo ha lasciato carta bianca al demonio questa è stata la passione a tutto l'inferno hanno fatto una masnata quel venerdì ma è stato Dio a farlo ricordate cosa dice Gesù in uno dei Vangeli viene il principe di questo mondo egli attenzione non ha nessun potere su di me nessuno ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio ciò che il Padre mi ha ordinato e che cosa gli avevo ordinato il Padre io ti consegnerò nelle mani del demonio e ti massacrerà scaricandoti sopra con la sua violenza tutto il male che esiste e causato da lui e dalla razza umana tu gli erai tutto questo qui con amore per amore e attraverso il tuo sacrificio lo distruggerai nel Vangelo di San Giovanni dice la stessa appena arrivano gli sgherri chi cercate me lo ricordate Gesù risponde sono io tutti giù per terra avete visto giro giro d'ondo tutti giù per terra cascano tutti per terra cioè quel sono io che è un eco del nome divino rivelato a Mosè io sono colui che sono li stende tutti quanti a dimostrare cosa voi siete venuti a catturarmi cioè ragazzi ma dico ma di cosa vogliamo parlare ma tu sei andato a catturare il Padre Eterno capito cioè se Gesù avesse voluto ma ti fulmina all'istante a tutti quanti capite quando dalla croce gli dicevano se tu sei figlio di Dio scendi ma lui dopo di ti poteva incenerire tutti quanti poteva scendere dalla croce poteva immediatamente sanare il suo corpo poteva svellersi i chiodi poteva diventare luce seduta stante e non lo ha fatto solo perché non voleva non perché non poteva ragazzi mi come dire mi inferbano un po' perché guai a noi se non ci viene in mente questa cosa guai a noi per tutto quello che accade a tutti i livelli familiare problemi personali umano cittadino problemi politici disastri che vediamo in giro corruzione dilagante società che fa schifo problemi nella chiesa cose che non condividiamo che vediamo c'è il beneplacito divino altrimenti non accadrebbero certe cose e quindi se c'è questo beneplacito e Dio permette che accada noi andiamo avanti mantenendo la fede e la speranza che tutto concorrerà al bene di coloro che amano Dio questo deve essere chiarissimo questo qui è indubitabile ripeto a livello personale a livello familiare a livello di rapporti parentali di lavoro di tutto quello che volete politici economici ecclesiali dappertutto ok sempre quindi se Dio non vuole che accada una cosa non accade è vero anche il contrario però se Dio si mette in testa una cosa non lo può affermare nessuno capito non lo può affermare nessuno supponiamo che Dio si mette in testa che diventi Papa l'ultimo prete sperduto di un villaggio del che caspita ne so del Biafra dell'ultima parte del mondo dice quello diventa mio Papa ma che diventa tuo Papa che lo conosce nessuno non diventa manco vescovo ma come fa quello là cioè prima di diventare Papa devi diventare cardinale come fai ma se Dio si mette in testa una cosa del genere quello Papa ci diventa troverà lui il sistema il modo capite non ci stanno santi se questa è una sua volontà come dire perché attenzione c'è la volontà intenzionale c'è la volontà permissiva e poi c'è un'altra sono modi cioè c'è la volontà di Dio assoluta io la chiamo così cioè quella cosa certamente accadrà e poi ci sono dei voleri divini condizionati cioè dipendenti dalle cause seconde dai liberi voleri umani cioè Dio subordina volontariamente alcuni suoi voleri alla collaborazione al consenso di alcune cause seconde umane perché si possa realizzare tutto secondo certi suoi progetti ma è sempre lui che ha deciso allora se Dio si mette in testa una cosa si dice tecnicamente che fa un decreto è finita non ce n'è per nessuno non ce n'è per nessuno inferno compreso non ce n'è per nessuno ok perché tutta quanta questa premessa Gesù dice questo è stato il mio scopo che la mia volontà sia conosciuta e che venga a regnare sulla terra audite audite e ciò che ho detto sarà fine qua devo leggere altri 15 righe potremmo fermarci questa cosa accadrà il regno della divina volontà sulla terra quanto meno quanto meno nel senso di venire in alcune anime e starci dentro al 100% come fu con Luisa Piccarreta è una cosa che accadrà sicuro perché l'ha deciso travolgerò tutto per ottenere questo sentite che bello ma il tutto mi deve ritornare in quella parola Fiat Fiat disse Dio Fiat deve dire l'uomo in tutte le sue cose non avrà altro che l'ego del mio Fiat l'impronta del mio Fiat le opere del mio Fiat per poter io dare i beni che contiene la mia volontà e così completerò lo scopo completo di tutta la creazione e perciò mi sono accinto al lavoro di far conoscere gli effetti il valore i beni e le cose sublimi che contiene il mio volere si potrebbe pensare una quarta parte di queste catechesi adesso vediamo la terza che è come si vive la prima volontà poi la quarta quali sono gli effetti le promesse se uno le va a vedere soltanto qualcuno gli prende un colpo gli prende d'accordo e far conoscere come l'anima tracciando la stessa via del mio Fiat resterà talmente sublimata sentite che bello divinizzata santificata arricchita attenzione da far stupire cielo e terra anche il cielo anche i santi che ci guardano dall'alto diranno ma che succede nel vedere il portento del mio Fiat operante nella creatura perché in virtù della mia volontà usciranno da me grazie nuove da me mai uscite capite che significa grazie nuove da me mai uscite cioè ne vedremo delle belle luce più sfolgorante attenzione portenti inauditi e non mai visti capiamo italiano grazie mai uscite portenti mai visti io ci credo ragazzi miei io ci credo non è che ci credo e io li voglio vedere detto fra me voi io faccio come un maestro quando insegna al suo discepolo le scienze che lui conosce il quale se insegna al suo discepolo è perché vuole fare un altro maestro come se stesso capito così faccio io se la mia lezione sublime fu la mia parola prima Fiat la mia preghiera insegnata Fiat santificante fu il Fiat come in cielo e così in terra ora essendo passato a te a darti più diffuse più chiare più sublime lezioni sulla mia volontà è che voglio che il discepolo acquisti non solo la scienza di essa ma che diventando maestro non solo insegni agli altri ma acquisti le mie proprietà i miei beni le mie gioie la mia stessa felicità perciò si attente fedele insegnamente non spostarti mai dalla mia volontà ragazzi cioè io quando sento dire queste cose qual è il senso di quello che ha fatto Gesù vi ripeto in effetti sempre la santità è stata fare la divina volontà però in queste rivelazioni che succede lo spiega qui che ci sono lezioni sulla divina volontà più diffuse più chiare e più sublime perché io sinceramente alcune cose che ho letto in questi scritti in questi dieci mesi che li sto seguendo io non l'avevo mai sentito in vita mia io non l'avevo mai sentito in vita mia c'è un passo dove Gesù dice a Luisa guarda vatti a leggere tutti i libri di santi io non ho letti tutti però ho letti tanti d'accordo leggi tutto quello che ti pare vai se trovi qualcosa portami un libro e dimmi guarda Gesù hai sbagliato qui c'è scritta la stessa cosa vai questa è una cosa che chiunque può fare chiunque sfrutterà queste catechesi se si vuole cimentare con questa sfida prende gli scritti e vede se alcune delle cose proprio caratterizzanti le ha trovate già in qualche altro scritto vi dico che io le ho trovate come dire avete visto è un po' come è un po' come un embrione rispetto all'uomo adulto nella dottrina mariana sulla santa schiavitù d'amore del Monforte lì è come però San Luigi non usa nessuno dei termini tecnici che usa Luisa non è arrivato ad alcune cose certo la luce che gli è venuta dal cielo sulla Madonna è talmente forte e le cose che ha capito erano talmente grandi che lui ha lambito e per certi aspetti varcato anche le soglie di questo regno senza saperlo d'accordo è per questo che chi vive bene la consagrazione totus tuus sta già bello attrezzato ma sono molto rari lo vedremo quelli che vivono bene la consagrazione totus tuus quindi questo è il fine di quello che ha fatto il motivo è perché noi possiamo diventare discepoli e vivere queste cose e poi diffonderle e attenzione però per quanto riguarda noi Gesù vuole che noi attenzione acquistiamo le sue proprietà e i suoi beni cioè ragazzi stiamo parlando di proprietà e di beni divini non umani divini quali sono le proprietà e i beni divini vuoi diventare onnipotente non è uno scherzo questo qui adesso diventare onnipotente non è uno si mette a fare il cretino come al film di Troisi vi ricordate non ci resta che piange che se metteva davanti al secchio gli diceva vieni d'accordo e sperando che il secchio si muove queste sono cretinate queste qui ecco ma onnipotente in che senso cioè nel senso che tu sarai padrone al cento per cento di te stesso di tutte quante le tue reazioni tu non sarai più un pompapocchio in balia di passioni di reazioni malsane del demonio capito avrai una capacità di dominare te stesso piena perfetta come quella che c'ha Dio l'onniscienza non sarà nel senso che tu conosci tutte quante le cose pensieri del prossimo e del futuro d'accordo è ma una capacità di discernimento grossa sopranaturale di vedere le cose come le vede Dio questo certamente che te verrà con il momento di una volontà puoi starne sicuro puoi starne cento per cento i beni divini la gioia la compagnia dei santi di Gesù e della Madonna sia essa comunicata a te in forma ordinaria e lo vedrai subito d'accordo perché quando tu cominci che succede se tu c'hai questo dono quando vai a fare l'adorazione eucaristica non è mai un peso mai cioè è un appuntamento che tu aspetti che non vedi l'ora di carriera e quando non c'è ti manca ma anche se stessi in situazione di dirgli tutto quello che ti pare è un'altra cosa devi dire rosario tocca di quattro rosari tocca farli perché la Madonna non ha chiesto i quattro però e quattro sono veramente tanti no la compagnia della Madonna è una cosa stupenda anche in maniera ordinaria tu con Rosario stai in compagnia della Divina Maria che vuoi di più cioè se uno stesse della mattina alla sera di tutto il giorno l'Ave Maria se uno è innamorato ma se uno è innamorato è innamorato è innamorato non vuole stare dalla mattina alla sera come dicono al nord con la morosa o col moroso che è una fatica noi adesso lo avvertiamo come fatica perché perché non siamo innamorati perché non stiamo nel regno della Divina Volontà non abbiamo questi beni questo vuol dire che non si soffre altro che centomila volte tanto di più capite ma in maniera completamente differente però insieme a tutte queste croci non possiamo parlare sempre di croci le mie gioie e la mia stessa felicità le gioie divine di Gesù e della Madonna la felicità divina di Gesù e della Madonna quella che non si sposta quella che non quella che non è soggetta a variazione d'umore che non è soggetta a contingenze di nessun tipo quella che perdura e rimane anche in mezzo alle più grandi croci e tribolazioni mi piacciono queste promesse a me tanto ci credete a queste promesse io tanto è chiaro che qui siamo nell'ambito dell'opinabile questo non è un'enciclica del Papa con un documento del concilio quindi potrebbe dire ma e va bene è padronissimo di dire ma questo ce lo siamo detti fin dare inizio bene rimaniamo con questa prima pietra miliare le conoscenze dei divini voleri sono la prima risposta che noi diamo all'offerta che Dio ci dà e il coltivare quindi l'impegnarsi con la meditazione e con la lettura a cominciare a entrare in questo regno e ricordiamo bene Dio è Dio ricordate tutto quanto il discorso sulla divina volontà Dio è Dio quindi quello che vuole se fa quello che assolutamente non vuole non si fa quello distorto che vediamo lui lo permette oppure dipende dalle cattive corresponsioni delle umane volontà che però lui nella sua onnipotenza sa comunque far volgere al bene questo era il senso della catechesi di oggi ricordiamolo una santa serata e un santo proseguimento di settimana a tutti per chi vuole ci vedremo sulle stesse frequenze la prossima settimana Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti